Dalle divagazioni di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, semi-disoccupato, semi-divorziato, protagonista di quattro romanzi, agli aforismi raccolti nei suoi libri di successo. Dalla fiction di Rai 1 allo splendido Palazzo Sersale di Cerisano per il Festival delle Serre Summer Jazz. Tra parole e musica, Diego De Silva porta in scena le sue pagine, accompagnato dal sassofono di Stefano Giuliano e il contrabbasso di Aldo Vigorito. Un modo per alternare brani letti dall'autore con jazz dal vivo che lascia spazio all'improvvisazione. Tutto questo è il trio malinconico, reading musicale che suscita risate ma anche complicità. Noi cerchiamo attraverso il trio malinconico appunto di unire queste arti nella forma più immediata che è quella di uno spettacolo un po' teatrale, un po' musicale che tenga insieme appunto la letteratura e la musica. Siamo amici da tutta la vita e con Stefano addirittura il sassofonista Stefano Giuliano suonavamo insieme nella mia vita precedente perché ho un passato da chitarrista e quindi abbiamo scelto di mettere insieme le nostre esperienze e con me ci sono appunto Stefano Giuliano che è un sassofonista di oramai di consolidata esperienza e Aldo Vigorito che è uno dei migliori contrabbassisti che abbiamo in Italia. E devo dire che per noi il trio malinconico non è solo un modo di fare in modo che le nostre esperienze si incrocino e diventino qualcos'altro ma è anche posso dire molto più banalmente la gioia di una serata così in un posto così bello, in una cornice naturale così affascinante, in una serata tra amici e con un pubblico bellissimo. Soddisfatti il direttore artistico Sasà Calabrese ed il sindaco Lucio Di Gioia. È una nuova formula che abbiamo pensato per differenziare anche i periodi e quindi è un'anteprima del vero festival che si terrà a settembre e questo è un bellissimo appuntamento che sta avendo grande successo e grande riscontro tra il pubblico. Tutti i fine settimana, cioè Risano e Palazzo Sersale ospiterà i tanti artisti, tutto formula ovviamente gratuita, è un grande impegno dell'amministrazione comunale grazie ai contributi che abbiamo ricevuto dalla regione Calabria. Stiamo provando a fare un bel progetto culturale che si può spalmare durante tutto l'anno, durante tutta la stagione estiva fino al periodo autunnale, arrivando poi all'inverno, insomma un vero e proprio cartellone culturale per riempire di eventi il nostro bellissimo Borg. Questi sono dei bellissimi anticipi secondo me e sono tutti incentrati sulla forma canzone, cioè la forma improvvisativa, la componente improvvisativa assolutamente sì, ma all'interno della forma canzone quindi vogliamo fare un focus proprio su quello che è la forma canzone.